Ciao ragazzi, oggi vi farò una breve recensione su Barrel Barrel praticamente è un'app, un tweak, che modifica il modo di scorrere delle pagine le animazioni quando si scorrono le pagine ad esempio questa qua è la classica ah, per scaricare Barrel basterà andare su SIDIA andare su CERCA aspettiamo che si carichi ecco e andiamo su CERCA e si chiama Barrel cerca naturalmente Barrel è a pagamento ma si può trovare facilmente gratis con altre repo Barrel, appunto Barrel, ecco, da Big Boss costa 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 2 dollari 99 quindi quindi più o meno 1,59€ quindi ce la tagliamo e e per cambiare le tante bisogna andare su impostazioni Barrel mode e non so c'è no effect noi cliccheremo su random per l'effetto appunto quindi sono tutti effetti misti quindi non sempre lo stesso effetto ma misti se no c'è il cubo la vista del cubo all'interno del cubo oppure il cubo all'esterno le pagine che scorrono in basso le pagine che scorrono in alto le pagine che scorrono in alto ho sbagliato no comunque la mia preferita è decisamente flippy perché è molto fluida anche carina da vedere oppure un'altra è il cubo il cubo all'esterno però è molto bella anche random perché sono tutti effetti misti io non so ad esempio questa così adesso diventa il cubo eccetera quindi si è una bella applicazione non è che sia indispensabile appunto se la prendete gratis mettetevela tranquilli è bella si ok grazie a tutti alla prossima è qui qui è è